Non riuscivano a riuscire dalla porta perché non c'era la porta Abbiamo iniziato da pochi giorni con queste meravigliose 234 pre-finaliste di Miss Italia 2011 Applauditele, eccole qua, anche loro hanno il palloncino E allora, grazie per il vostro applauso Attenzione, siete pronti? Pronti ragazzi? 3, 2, 1, 2, a parto dai nostri pensieri Ciao palloncini Ragazzi, l'avete fatti gli scongiuri? Sì, sì, sì Ce l'avete dei riti scaramantici? L'abbiamo fatto merda merda Piona ci saluti, il Tirreno Tu sei la Miss Italia esclusa? Sì Come ti senti? Ora bene, nel momento in cui ho saputo che non potevo più partecipare è normale Ci sono rimasta un po' male anche perché poi ero stata un po' gasata dalle ragazze che mi davano tutti per vinta Vabbè è normale, è una delusione temporanea Si dice che sia stato un po' un complotto, che insomma ti abbiano un po' fregata Beh io credo proprio di sì, perché comunque sono uscite delle foto che non sarebbero mai dovute uscire Perché non c'era nessun liberatore che permettesse tutto quello che ho pubblicato Come mai? Beh è bello essere temuti comunque E vi spiace? Anche a me Grazie 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 Niente Fabrizio Frizzi sta annunciando le finaliste Le 60 che sono riuscite a passare l'esame E noi cercheremo tra poco di intervistare alcune delle escluse che purtroppo non ce l'hanno fatta